Un impegno scientifico sempre più direttamente finalizzato alla salute dell'uomo, scienziati e umanisti a confronto per il Meeting Le Due Culture 2016 organizzato da Biogem ad Ariano Irpino. È un'occasione importante per avere presenze significative che ci invogliano a far bene nel mondo della ricerca, perché ci consentono di allargare la rete dei nostri rapporti, perché consentono ai nostri ricercatori di guardare a modelli positivi. È importante perché noi credo che offriamo alla comunità esterna anche una grande occasione di vivacità culturale in un'area come la nostra che insomma soffre, vive in una condizione di oggettiva marginalità. Tutti gli animali, io pure, si esprimono. E' il tema di questa edizione, ospiti d'onore due premi Nobel della fisica e medicina ed illustri relatori. I'm now involved in a project. Dopo il lavoro fatto sulla fisica del neutrino che ha condotto il premio Nobel, il professor Kajida adesso ha una nuova sfida, vuole lavorare sulle onde gravitazionali. Voi avete tutti sentito l'anno scorso di questa grande scoperta delle onde gravitazionali e lui a questo punto con la forza della sua posizione cercherà di investire in Giappone su questo studio.